La crisi di Covid-19 ha cambiato radicalmente il contesto in cui abbiamo valutato gli squilibri, ma gran parte degli squilibri che erano presistenti alla crisi da Covid rimangono. E con la crisi del Covid gli squilibri hanno registrato un'interruzione della tendenza a un miglioramento. In alcuni casi sono stati anche aggravati dalla crisi, per esempio in quasi tutti i paesi c'è stato un incremento del debito complessivo, anche acuto in alcuni casi. I squilibri esterni sono stati quasi invariati e in alcuni stati le partite correnti hanno registrato un peggioramento soprattutto laddove c'è una forte dipendenza dal settore turistico. Ci sono poi anche eccedenze nelle partite correnti. Tutti i 12 paesi in cui sono stati registrati degli squilibri o squilibri eccessivi, quando questi erano già stati registrati l'anno scorso, non hanno visto modificarsi questa situazione. Il nostro obiettivo non è soltanto la ripresa delle nostre economie per tornare ai livelli del 2019. Il nostro obiettivo, invece l'obiettivo di Next Generation EU, è quello di andare oltre a questi livelli, di crescere dunque e di riuscire a ottenere un percorso sostenibile e robusto per la ripresa.